presentati mi chiamo Francesca ho 15 anni e il mio cognome è Brun hai mai lavorato nel mondo dello spettacolo? no ma quando ero all'elementare ci abbiamo fatto un balletto e spero che mi vada bene se ne avessi la possibilità cosa ti piacerebbe fare? far vedere come sono capace di ballare e non vedo l'ora di farvelo vedere fai un appello al pubblico per farti votare spero che vi piaccia questo ballo e spero che mi voterete in tanti anche se non vinco è bello partecipare e spero che ce la faccio